La quinta puntata di X Factor ha visto i concorrenti presentare i loro inediti, ma il clima si è infiammato con un acceso scambio di opinioni tra i giudici Jake LaFuria e Achille Lauro sui Pancake. Lauro ha criticato la mancanza di evoluzione nel loro stile, mentre LaFuria ha difeso la band sottolineando i rischi presi nel loro percorso musicale. La tensione è aumentata quando Manuel Agnelli è intervenuto a favore dei Pancake, evidenziando il successo di artisti con uno stile simile. LaFuria ha accusato Lauro di favoritismi e manipolazione del pubblico, anziché analizzare obiettivamente la musica in gara. Oltre alle polemiche tra i giudici, la puntata ha visto esibizioni di cover da parte dei concorrenti. Il momento clou è stato l'eliminazione di Laura, che ha ricevuto il minor numero di voti. Dopo una sfida al ballottaggio con i Pancake, i giudici hanno deciso di eliminare Laura, lasciando Paola Iezzi senza concorrenti. Questo episodio ha evidenziato le dinamiche interne del programma e le sfide che i concorrenti devono affrontare in un contesto così competitivo. La discussione accesa tra i giudici ha catturato l'attenzione del pubblico, rendendo la quinta puntata di X Factor una delle più intense e controverse della stagione.